Sì, grazie Presidente. Anche questa mozione è frutto di un indirizzo dato in Commissione Ambiente insieme e congiuntamente al Municipio XIII sulla zona, sull'area del Parco Piccolomini. L'area del Parco Piccolomini è un'importante area storica a livello del Rinascimento perché rappresenta in sé il belvedere della città di Roma verso la Basilica di San Pietro. Perciò rappresenta sicuramente un punto centrale, un punto panoramico fondamentale per il Municipio ma per tutta la città perché spesso e volentieri è fruito dai turisti che vengono a visitare la Capitale. Questo parco ha un vincolo paesaggistico per il quale non si è potuto poi creare e costruire una scuola a seguito di un esproprio portato avanti dalla Regione Lazio e questo parco ha vissuto nell'incuria fino a oggi, non è stato manutenuto, non è stato portato avanti nessun progetto proprio per riqualificarlo. Questo degrado ha portato la scomparsa del belvedere e grazie a questa amministrazione che ha prontamente dato gli indirizzi giusti al servizio giardini ha riqualificato l'aria e ha ristabilito la bellissima panoramica. Però noi chiediamo di più, chiediamo chiaramente oltre a un'attenta manutenzione ordinaria insieme al Municipio XIII anche un progetto che stiamo realizzando insieme allo stesso Municipio e un collegamento pedonale tra via Gregorio VII e il parco di Piccolomini. Questo progetto potrà realizzare nella sua interezza la fruibilità di questo parco ridonandogli appunto il grande splendore che aveva un tempo. Perciò questo indirizzo è molto semplice, però mira sempre a riqualificare un'area importante della nostra capitale e speriamo che venga votato senza polemiche strumentali da parte dell'opposizione questo indirizzo molto semplice a beneficio del territorio e del Municipio XIII. Grazie Presidente.